se ci hanno le mani che arrivano con la bici non tappoggiare ma è bene così no 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 Sì, Sì, Sì. Ehi capo! Grupa Leon! BUSTI! Arriva tu sasso! Venga, metto! Come on! BOOOOOO! Wow! Wow, la monta, la monta! Vai Leon! Venga, metto! Venga, metto! Venga, metto! Aurel! Venga! Ma! Gai Leon! Alla gol! Come in, come in, come in! Bravo! Grazie a tutti! è parte grosso grosso dai social dai social dai dai bal dai dai bal daiseli dai dai달 dai bal ferma 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 ti damami quando chiede ti ja IC boil dicaschu Lascia! Dei ball! Kei leon! Grazie! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, 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 Sì! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!